Benvenuti al TG10, l'apertura oggi del telegiornale la dedichiamo alla pagina sindacale, ci occupiamo della vertenza SMIM impianti, ieri incontri a Caltanissetta e a Palermo, se la Regione finanzierà la cassa d'integrazione in deroga, così come concordato lo scorso 24 febbraio al Ministero dello Sviluppo Economico, l'azienda dell'Indotto revocherà la procedura di mobilità ai 115 operai coinvolti a Gera, accedendo così agli ammortizzatori sociali. Vediamo. Si è sposata a Palermo la vertenza SMIM dopo il tavolo prefettizio di ieri mattina a Caltanissetta, se la Regione finanzierà la cassa d'integrazione in deroga, così come concordato lo scorso 24 febbraio al Ministero dello Sviluppo Economico, l'azienda dell'Indotto revocherà la procedura di mobilità ai 115 operai coinvolti a Gera, accedendo agli ammortizzatori sociali. L'assessorato regionale alla lavoro, raggiunto dal prefetto Maria Teresa Cucinotta, si sarebbe mostrato disponibile ad affrontare proficuamente la questione. Il vertice regionale esiterà lunedì prossimo e subito dopo saranno riconvocate a Caltanissetta le parti interessate. Ci siamo aggiornati agli esiti di questa riunione che si terrà alla Regione per rivalutare la possibilità di vedere e convertire eventualmente la mobilità in cassa d'integrazione per la prosecuzione della cassa d'integrazione in deroga. E per gli operai che chiedono il lavoro possiamo rispondere che in questo momento l'Eni sta andando avanti con cantieri più operativi di quelli che sono stati finora bloccati dalla necessità di acquisire una serie di autorizzazioni che ora si sono sbloccate e quindi possono avere concrete ulteriori opportunità lavorative con l'avvio anche dei nuovi cantieri. Siamo tutti coinvolti, dobbiamo fare un lavoro di squadra, come dico io, di intesa tra tutte le istituzioni, cosa che stiamo facendo. Io ho parlato anche con l'assessore regionale l'onorevole Miciche che mi ha dato ampia disponibilità anche a collaborare, cioè a intervenire su questi tavoli e a dare il supporto anche della Regione Siciliana che è un componente fondamentale nella discussione di queste tematiche. Per il Comune di Gela ieri era presente l'assessore Francesco Solenitro. Il Comune di Gela è preoccupato di questa situazione, quindi per quanto è nella sua possibilità farà il massimo possibile nella direzione di evitare che il licenziamento ci sia. Ovviamente gli strumenti in mano all'amministrazione comunale sono molto limitati perché attiene a quelle che sono le attività imprenditoriali sia di Eni che della SMIM come fornitore ma anche della Regione che ha la possibilità di decidere sugli ammortizzatori. Noi seguiamo con molta attenzione e molta apprezzione l'evolversi della situazione. Gli stipendi dei dipendenti che non possiamo più mantenere perché con la chiusura della raffineria sono venuti a cadere tutta una serie di ordinativi che prima sostenevano lo stabilimento e che ora non mancano. Noi aspettavamo, abbiamo mantenuto questa occupazione coperti da ammortizzatori sociali con gravissimi sacrifici e costi pesanti pensando in una ripresa dell'attività produttiva della raffineria. Torna nella soveste classica delle venerdì sera, agora il rotocalcolo settimanale della nostra emittente ideato e condotto da Franco Gallo. Si occuperà della lista della spesa lanciata dai vari gruppi politici giolesi a fronte dei 32 milioni di euro delle compensazioni dovuti da Eni e che andranno investiti nel territorio giolese. Si è scatenato il tutto spesa, chi li vuole investire in un modo e chi in un altro. Dal canto suo intanto l'amministrazione comunale retta dal sindaco Domenico Mersinese ha lanciato la sua proposta racchiusa in un decalogo di punti cruciali. Se ne parlerà proprio questa sera a partire dalle 21 ad agora con il collaudato format del salotto televisivo. Ospiti in studio dibatteranno con il conduttore su questo argomento che riguarda la visione futura di questa martoriata città. Appuntamento a stasera su Canale 10 con una nuova interessante puntata di Agora. Cambiamo argomento e adesso occupiamoci di città metropolitane e liberi consorsi. Nulla osta al passaggio di Gela a Catania, lo dice il Comitato per lo sviluppo dell'area gelese. Si è chiesto un intervento risolutivo al Presidente della Regione, Rosario Crocetta. Dopo il varo della riforma dell'ex provincia decisa dall'Assemblea regionale siciliana, adesso si punta decisamente al passaggio di Gela alla città metropolitana di Catania. Non soltanto Gela, ma anche Niscemi e Piazza Almedina, comuni che hanno deciso di emigrare dagli attuali liberi consorsi di Caltanissetta ed Enna. Filippo Franzone, coordinatore del Comitato per lo sviluppo dell'area gelese. La riforma appena avrata non è altro che una modifica di quello che era la legge 15. Era stato chiesto dal Consiglio dei Ministri una modifica su alcuni articoli e questa è stata fatta. Nulla implicava però il fatto che il passaggio territoriale poteva avvenire anche prima di questa modifica. Può avvenire anche oggi. Insomma, il passaggio territoriale di questa riforma è legato al disegno di legge governativo che deve produrre il governatore gelese e Rosario Crocetta. Io l'appello lo faccio a tutti i luogotenenti e a tutte le persone vicine a Crocetta gelesi nelle spingere appunto il governatore a produrre il più presto possibile questo disegno di legge. Diversamente saremo costretti da gelesi a dover denunciare materialmente attraverso la magistratura questa condotta che non è di certo una condotta lodevole. Dal paladino dell'antemafia, dal paladino del rispetto della giustizia ci aspettiamo che venga applicata la legge. Non deve fare altro che applicare la legge. Dai comuni interessanti all'immigrazione verso Catania sono partite più iniziative democratiche per cambiare la geografia siciliana. Ci sono già atti di diffida eseguiti. La Lantieri ci ha fatto sapere dopo la diffida che abbiamo fatto i comitati di Gela e Piazza Almerina e Niscemi, ci ha fatto sapere che i disegni di legge sono stati già inviati 2 ad ottobre, cioè quello di Gela e Piazza Almerina sono stati inviati al governo in ottobre e quello di Niscemi è stato inviato al governo il 16 gennaio. Dal 16 gennaio ci troviamo oggi al 1 aprile, credo che sia bastato abbastanza tempo, produrre un disegno di legge è una cosa che impiega pochi minuti e null'altro. Quindi vuol dire che a questo punto dobbiamo cominciare a sospettare che non c'è la volontà del Presidente della Regione. Se ne deve fare una Regione anche lui, qui le scelte sono state fatte, sono scelte democratiche, a democrazia per rispettata. Dunque sostanzialmente al momento attuale nulla osta al passaggio di Gela, Niscemi, Piazza Almerina alla città metropolitana di Catania? Nulla osta e si deve fare il più presto possibile perché tra poco bisognerà organizzare anche le elezioni per gli enti intermedi che saranno di secondo livello, non parteciperanno la popolazione, parteciperanno i consiglieri comunali e noi gradiremmo che Gela, Piazza Almerina e Niscemi scegliessero gli amministratori della città metropolitana e non quelli ovviamente del libero consorzio di Caltanissetta. E ieri l'assessore comunale di Gela, Francesco Salimitro, ha partecipato in rappresentanza del sindaco domenico messinese ad un incontro che si è svolto a Piazza Almerina promosso dal sindaco di Caltanissetta per discutere di problematiche riguardanti aspetti specifici delle zone interne della Sicilia. L'invito ha riguardato i comuni dell'ex provincia di Caltanissetta e i comuni dell'ex provincia di Enna. L'assessore Salimitro ha messo in rilievo che Gela, Piazza Almerina e Niscemi hanno già scelto l'ente di area vasta a cui far parte e lo hanno fatto con due delibere consigliari ed un referendum confermativo. Hanno già scelto la città metropolitana di Catania come area di riferimento, ritenuta più affine e coerente con le specificità economiche, oltre che storiche e culturali dei rispettivi territori. Sulla stessa lunghezza d'onda il sindaco di Piazza Almerina, Filippo De Mirodi. La maggioranza del sindaco adesso mette le mani avanti. Dove avere votato un atto a sostegno dell'amministrazione e dichiara che lavora per il futuro della città. Il PD di Cristina, Reset 4.0, il Polo Civico, il Megafono e Forza Italia sostengono messinese e votano in aula un atto di indirizzo infondato nel merito, tecnicamente inutile e politicamente destinato a fare da paracadute all'amministrazione che qualunque cosa faccia oramai sbaglia la mossa. Lo dice in una nota il gruppo consigliare del Movimento 5 Stelle. Lo vota forse senza consapevolezza e ledendo la dignità del Consiglio Comunale. Sappia la città, si legge ancora, che non risulta da atti formali alcun pericolo di declassamento del porto di Gela che porto industriale rimarrà. Quindi, sottolineano i grillini, perché votare un atto su una questione che non esiste? Forse per distrarre la città dai problemi reali e dal lavoro poco chiaro dell'amministrazione sarebbe bene dare soluzioni complesse a problemi complessi. Il porto industriale di Gela, si legge ancora, può essere oggi la porta dell'Europa sul Mediterraneo grazie alle sue strutture già esistenti da migliorare. Serve un impegno serio e non falsi proclami. Siamo, dicono ancora i grillini, a sostegno della portualità futura che si basa sulla costruzione di un sistema di comunicazioni infrastrutturali terra-mare reali. Questa amministrazione non ha mai lavorato per ottenere infrastrutture ferroviarie a sostegno del porto e della città. Non esiste un incontro fatto in tal senso con gli organi competenti. Non basta dire la parola porto senza pensare alla movimentazione terrestre su rotaia. Non esiste un porto senza ferrovie efficienti. Costruiamo la portualità reale e non a fantasie perché chiude la nota del gruppo consigliare del Movimento 5 Stelle. La città è stanca dei giochi della vecchia politica. Si celebra domani la giornata mondiale della consapevolezza dell'autismo istituita dalle Nazioni Unite nel 2007. L'obiettivo è quello di far luce su questa disabilità promuovendo la ricerca ed il miglioramento dei servizi e contrastando la discriminazione e l'isolamento di cui ancora sono vittime le persone autistiche e i loro familiari. Secondo una ricerca condotta dal Censys, l'Italia è tra paesi europei che destinano meno risorse alla protezione sociale delle persone con disabilità. Oggi iniziativa a scuola al comprensivo Giovanni Verga. L'obiezione di sempre è che la scuola sia inclusiva, che la scuola sia aperta non teoricamente ma praticamente al dialogo, al confronto e che si adoperi costantemente per la crescita e la gioia dei ragazzi che chiaramente sono affetti da patologie dell'autismo ma non sono diversi. Sono dei ragazzi che hanno grandissime potenzialità, chi più o meglio della scuola insieme agli attori del territorio. Noi oggi siamo gioiosi di avere qui la presidenza e il direttivo dell'Aias perché è uno degli attori del territorio con cui lavoriamo quotidianamente insieme alle famiglie e insieme a tante altre associazioni che si occupano dell'aspetto ludico e della socializzazione di questi bambini. Metà della loro vita la vivono qui, quindi non possiamo non sentirci responsabili e attori attivi di questo loro processo di crescita. Non esiste una terapia farmacologica di trattamento dell'autismo ma il trattamento che si può fare su questa patologia è solo di tipo cognitivo comportamentale, un approccio multidisciplinare. Proprio per questo mi vanto di dirigere una struttura che ha un'equipo multidisciplinare e può affrontare da tutti i punti di vista questa patologia, non solo trattando il bambino o la bambina autistica ma prendendo in carico anche le famiglie che poi hanno l'onere maggiore di caricare questa patologia. Noi abbiamo un progetto che speriamo che esca il più presto possibile dal comune di Gela per fare il dopo di noi perché molti genitori giustamente una volta che non ci saranno più questi ragazzi dove andranno a finire? Mentre noi stiamo cercando di creare questa casa perché il dopo di noi non sarà altro che un'accoglienza per questi ragazzi e si troveranno bene perché dal momento che hanno vissuto da bambini fino a grande dentro l'Aias continueranno a vivere con gli stessi operatori, con gli stessi assistenti, con tutto il circondario che li ha visti crescere. Per cui spero con tutto il cuore che il comune di Gela ci faccia questo regalo di fare uscire il più presto possibile questo progetto in modo da tranquillizzare tutti i genitori che giustamente non sanno un domani dove andranno a finire i loro figli. E domani alle 9 al Teatro Eschilo si terranno dei lavori tematici, alle 19 invece in corso Vittorio Emanuele partirà la notte blu alla quale hanno aderito anche i commercianti di Gelo Centro. La Chiesa Madre sarà illuminata da luci blu come numerosi monumenti in tutto il mondo per sensibilizzare sulla patologia. Lo stesso edificio di culto sarà interessato dalle 21 alle 23 da spettacoli ed eventi verticali. L'amministrazione comunale ha patrocinato le iniziative promosse dalle associazioni il labirinto di carta e oltre il muro. E la Confcommercio Ascom Gela ha accettato di aderire all'invito da parte delle due associazioni che si occupano di autismo presenti sul territorio al fine di partecipare alle manifestazioni che si svolgeranno a Gela domani. La Confcommercio invita tutti gli associati a partecipare attivamente alle manifestazioni impegnandosi alla donazione di parte degli incassi della giornata. La pagina della cronaca. Due giovani gelesi sono stati denunciati dalla Polizia per ricettazione. La scorsa notte sono stati sorpresi mentre trascinavano un ciclomotore rubato riconducibile ad una nota ditta gelese colpita più volte da furti di vari mezzi di trasporto custoditi presso una auto rimessa. Sono in corso ulteriori accertamenti per capire se i due denunciati sono coinvolti in analoghi furti. Ed i carabinieri assieme al nucleo cinofiti di Palermo a Villa Grazia hanno svolto un servizio di prevenzione e repressione per reati in materia di stupefacenti nel complesso didattico di via Pitagora a Gela, comprentende il liceo scientifico statale Vittorini, l'istituto di istruzione Ettore Majorana e l'istituto tecnico Emanuele Morselli. I carabinieri, su richiesta dei dirigenti scolastici, insospettiti dagli atteggiamenti di alcuni alunni segnalati dagli stessi docenti, si sono recati all'interno delle aule durante le lezioni per controllare gli studenti ed i loro effetti personali con l'ausilio di un cane razza pastore tedesco. Rinvenuti 10 grammi di sostanza supefacente del tipo marijuana ed hashish gelata in più posti nelle aule, tra cui i termosifoni ed i davanzari delle finestre. Nel contesto sono stati segnalati alla Prefettura per uso personale di sostanze supefacenti i due minorenni, i quali, alla vista dei carabinieri, hanno consegnato spontaneamente 3,2 grammi e mezzo di hashish. Uno di questi aveva addirittura occultato all'interno dei propri slip avvolti in un paio di calzini il quantitativo in questione. Gli stessi militari dell'arma hanno rinvenuto molte confezioni in cellofan vuote, disseminate sia all'interno delle aule sia all'esterno, a dimostrazione del fatto che vi era stato un precedente consumo pregresso all'arrivo dei carabinieri. Il giornalista è colui che deve riuscire a analizzare la realtà nella maniera più limpida possibile, obiettiva, quello che si cerca l'obiettività anche se non esiste. È proprio in questa ricerca di analisi critica della realtà, quindi anche riproposizione al lettore di questa analisi, che sta il bello del lavoro del giornalista. La descrive così Matteo, uno studente del liceo classico di Caltanissetta, la professione del giornalista, di colui che descrive la realtà a tutti i costi. Momenti di confronto e dibattito quelli che hanno visto coinvolti gli studenti degli istituti superiori della città, ospiti di eccezione, in occasione dell'Assemblea regionale dell'Ordine dei giornalisti che dopo vent'anni e per la prima volta a Caltanissetta ha chiamato a raccolta al Centro Culturale Polivalente Michele Abbate, pubblicisti e professionisti siciliani, insieme per l'incontro formativo sul testo unico dei doveri del giornalista, accompagnata dall'approvazione del bilancio consuntivo del 2015 e di quello preventivo del 2016, così come della premiazione dei professionisti iscritti all'albo da 50 anni e 35 anni e pubblicisti con 35 anni di iscrizione. Ma probabilmente il consiglio unico da dare sarebbe quello di scegliere un altro mestiere visti i tempi, però siccome mi rendo conto che i sogni dei giovani è difficile che possano essere frenati da noi vecchi, certamente possiamo dire che bisogna avere molta applicazione, molta capacità di studio e molta disponibilità ad anni e anni di precariato che una volta si limitavano a decina d'anni e ora sono andati molto di più. I giovani che si avvicinano a questa professione per fare questo mestiere ci vuole molta pazienza, molti sacrifici e soprattutto non sperare nella parte iniziale di questa professione che si possono arrivare all'auto i guadagni. Questa professione al giornalismo non deve essere sfruttamento da parte degli editori, spesso e tantissime volte ne approfittano di questa situazione, di questa passione che gli aspiranti giornalisti hanno per far fare delle cose che andrebbero retribuite secondo le leggi e secondo il contratto. Gela, topografia e urbanistica della città greca è il tema della conferenza che si trarà domani alle 18 nell'ex chiesetta di San Biagio promossa dall'associazione Archeo Ambiente presieduta da Giuseppe Andrea Alessi. Relazionerà Grazia Spagnolo, archeologa presso l'Università di Messina. Ci fermiamo, linea alla regia per la pubblicità. Benvenuti in seconda parte del telegiornale, un book fotografico per raccontare 20 anni di musica dell'associazione culturale Giuseppe Verdi presieduta da Salvatore Domicoli. L'iniziativa si trarà venerdì 8 aprile alle 18.30 nella casa del volontariato di via Ossidiana a Gela. È prevista anche una esibizione musicale. Riunione della Commissione Consiliare e Servizi Sociali del Comune di Gela ieri pomeriggio in concomitanza con l'arrivo del polo tattile itinerante dell'Unione Italiana Cechi che ha fatto tappa in città. L'obiettivo è quello di ottenere un report dei non vedenti ed ipovedenti. al fine di incentivare i diritti ad un'assistenza maggiore e fornire un aiuto concreto. Abbiamo ricevuto da parte del Presidente l'invito a vedere questa realizzazione. Sinceramente avevo un po' di timore perché l'idea del buio già di per sé mi mette un pochettino di malessere. Però ho potuto considerare che con il lavoro di tutti e la partecipazione si possono fare grandi cose. È stata un'esperienza al di poco bella, addirittura anche disabilizzante per certi aspetti. Però l'ho trovata abbastanza interessante. I volontari sono di una spisitezza e di una semplicità unica. Questa è la gela che mi piace e che vorrei che tanti giovani si accostassero al volontariato, questo qualunque altro sia, al servizio dei... una volta si chiamavano invalidi, oggi sono diversamente abili. L'esperienza è stata abbastanza interessante, oltre che a insegnarmi che il mondo dei non vedenti non è un mondo semplice. Posso dire che auguro tutti i migliori auspici affinché i non vedenti possano un domani avere le stesse opportunità e la stessa possibilità dei vedenti. L'assessore comunale dei servizi sociali, Licia Abela. L'esperienza, devo dire, è incredibile, emozionante, sotto tanti punti di vista, perché mi ha permesso di entrare in contatto con quello che è un mondo veramente sconosciuto, che è per me quello degli ipovedenti e dei non vedenti. È un modo per sensibilizzare tutti al rispetto altrui, per capire perché è la conoscenza che ci permette di avvicinarci in una maniera più leggera, più sensibile nei confronti di queste persone che vivono questa disabilità. Incentivare quelli che sono i diritti che giustamente loro rivendicano ad un'assistenza maggiore e ad un aiuto sempre più concreto, sia perché che riguardino tutte le fasce d'età, dai bambini fino ai lavoratori e alle fasce poi ancora più anziane con l'aiuto appunto con l'assistenza domiciliale. Al via la terza edizione del concorso nazionale di musica Ghelas Music Città di Gela, riservato agli studenti e dalle scuole secondarie di primo grado statali e paritarie ad indirizzo musicale per giovani solisti virtuosi dai 13 ai 18 anni. L'evento si trarrà dal 30 maggio al 1 giugno presso il Palazzo della Cultura Principessa Pignatelli ed al Teatro Eschilo. I premi toccano le 5.000 euro oltre alla medaglia di rappresentanza della Repubblica Italiana. Sono previste inoltre targhe e menzioni speciali. Il direttore artistico e il maestro Croceviso Ragona, collaborato dal presidente dell'associazione Il Tempio di Apollo, Chiara Valeria Caci, e dal presidente dell'associazione Giovani Musicisti, Giussi Rinsivillo Ragona. Avvicinare i giovani alla legalità, spiegare loro quali sono le tappe più significative che caratterizzano un'indagine scientifica, smascherando un crimine quasi perfetto. Sono gli studi e le ricerche portate avanti da Paola Di Simone, raccontate nel libro Crimini al microscopio, presentato nell'aula consigliare di Palazzo del Carmine. Indagini scientifiche per noti casi di cronaca, quali il sopralluogo nel covo di Bernardo Provenzano, la scomparsa di Denise Pipitone. Sono solo alcune delle scene del crimine descritte nelle pagine del libro del direttore tecnico, capo biologo della Polizia di Stato. Crimini al microscopio nasce come esigenza di spiegare al pubblico le differenze che ci sono tra i contenuti televisivi delle fiction tipo CSI con la realtà di tutti i giorni di chi opera in questo settore, in questo lavoro. Partendo quindi e prendendo come spunti alcune sviste che osserviamo e che vediamo nelle serie televisive delle fiction spieghiamo e spiego nel libro Crimini al microscopio attraverso casi reali come ci si muove realmente per risolvere i crimini o anche semplicemente per affrontarli nell'ambito più ampio di un'indagine di polizia giudiziaria con il supporto delle indagini scientifiche. Rigore scientifico e grande umanità è ciò che secondo il questore di Caltanissetta Bruno Megale caratterizza questo libro, i cui ricavati della vendita saranno ceduti dall'autrice al fondo Piano Marco Valerio della Polizia di Stato. Oggi la scienza, nel caso di spese la genetica forense, è alla base di tutte le attività investigative, il sopralluogo sulla scena del crimine, tutti i dati che vengono acquisiti di una scena del crimine costituiscono la base su cui partono più o meno tutte le attività investigative. Oggi la Polizia di Stato ha fatto un investimento importante in termini di risorse, in termini di apparecchiature scientifiche, di nuove metodologie e di indagini, in termini di formazione del personale per migliorare proprio questi aspetti, proprio perché ormai la statistica ci dice che la risoluzione di questi casi non può prescindere da un approccio scientifico, si è investito molto sulla qualità e sullo sviluppo di questi nuovi metodi di indagini. Siamo in conclusione, c'è la pagina dello spettacolo e la macchinazione che ha ucciso Pasolini, il film in programmazione al Cineteatro Antidoto di Machitella a Gela, sono tre gli orari, 17.30, 19.30 e 21.30. Abbiamo concluso anche per oggi, grazie per averci seguito, appuntamento alle prossime edizioni. Grazie a tutti!